Trovare rifugio e pace nei salmi 91 e 23. Introduzione, la saggezza senza tempo dei salmi. Nel percorso della vita, arriva un momento in cui cerchiamo rifugio e pace. I salmi, antiche poesie e canti trovati nella Bibbia, hanno servito come fonti di conforto spirituale nei secoli. Due dei salmi più amati e confortanti sono il salmo 91 e il salmo 23. Oggi esploreremo la saggezza di questi salmi e come possano essere una fonte di forza e speranza per coloro che hanno tra i 50 e i 65 anni. Salmo 91, trovare protezione divina nelle avversità. Nel salmo 91, l'autore ci parla della protezione divina che ci viene offerta. Inizia sottolineando l'idea che cercando rifugio nell'altissimo, ci stiamo nascondendo sotto le ali del creatore. Questa metafora ci ricorda come un uccello protegge i suoi piccoli sotto le sue ali. Allo stesso modo, Dio ci protegge con un amore profondo e inamovibile. Questo salmo parla anche di affrontare situazioni difficili, come malattie e pericoli nascosti. Ci assicura che, con fede e fiducia, possiamo superare tutte le sfide che si presentano sulla nostra strada. Tuttavia, questo non significa che non affronteremo avversità, ma piuttosto che non saremo soli nell'affrontarle. Salmo 23, il viaggio tranquillo al fianco del pastore divino. Il Salmo 23 è un invito a un viaggio tranquillo e rassicurante al fianco di Dio, il nostro pastore. Inizia con le parole ispiratrici, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Questa affermazione è un promemoria che Dio si prende cura di noi, soddisfacendo le nostre necessità spirituali e materiali. Il Salmo prosegue guidandoci attraverso valli oscure e momenti difficili. Ci tranquillizza, ricordandoci che il pastore è con noi anche nei momenti più bui. Il bastone e la verga, simboli di guida e protezione, ci assicurano che non dobbiamo temere l'ignoto, perché Dio è con noi. Trovare conforto e speranza, il significato per le nostre vite. Nella fase tra i 50 e i 20 e i 65 anni, molti di noi affrontano cambiamenti significativi nelle nostre vite. Possiamo trovarci di fronte alla perdita di cari, sfide di salute e alla ricerca di un nuovo significato. In questi momenti, i Salmi 91 e 23 possono essere un balsamo per le nostre anime. Conclusione, un rifugio inabalabile nella parola divina. I Salmi 91 e 23 ci ricordano che non siamo soli in questo viaggio. Ci indicano un rifugio inamovibile in Dio, che ci protegge, guida e ci dà speranza. Meditando su questi Salmi, troviamo conforto nella promessa che non importa in quale fase della vita ci troviamo, possiamo trovare rifugio e pace nella presenza divina. Quindi, mentre avanziamo nel nostro percorso, possiamo volgerci a questi Salmi, trovando forza nelle antiche parole che continuano a echeggiare nel tempo. Con fede e fiducia, possiamo affrontare le sfide con coraggio, sapendo che il Signore è il nostro rifugio, pastore e eterno protettore. La tua partecipazione è essenziale per aiutarci a continuare a produrre e diffondere queste incredibili storie. Se il video ti è piaciuto, ti saremmo immensamente grati se potessi fare clic sul pulsante grazie mille e contribuire al canale, lasciando il tuo feedback nei commenti. Questo ci incoraggia e ci motiva a continuare a condividere con voi queste affascinanti storie.